L'inclusione ravvicinata da parte di Cortinoves, c'è posizione di fuorigioco. Poi al ventenovesimo, dal nulla, un lampo con Giunta che pesca Zunno. Gran controllo a seguire con il destro e sinistro sul secondo palo che non dà scampo a guadagno. È il settimo gol in stagione anche per il giocatore di proprietà della Cremonese, l'uomo più in forma del momento senza lo squalificato Emmausso e l'influenzato Plescia. A lui tutta la responsabilità del peso offensivo.